ciao come andiamo non fare il tanto pauroso lo sai che scherzo se voglio prendere qualcosa da te te lo chiedo a differenza degli altri miseri umani ho un minimo di rispetto nei tuoi confronti dai senti è una questione di abitudine va bene e così che prendiamo le nostre prede un piccolo morso minuti di piacere misto dolore per voi ma di nutrimento per noi e voilà tutto finito come fosse una una un vaccino una puntura sì quella cosa che fate voi non che noi ne abbiamo bisogno il nostro unico problema il sole ma senti perché non mi parli un po di di quello che stai facendo del resto che cavolo ci fai in piena notte qui fuori da solo non sto facendo nulla no è una tua impressione non è vero si nota così tanto è vero ho fame è praticamente da ieri notte che non non mi nutro ecco però non c'è bisogno che tutti scomodi voglio dire tanto me lo prenderò comunque si può anche un po scherzare che ci posso fare voi stupidi esseri umani dovete mangiare almeno tre volte al giorno se non di più comprese le merendine noi invece necessitiamo solo di una dose al giorno e facciamo anche del bene del resto visto che siamo noi di uccidere gli animali pericolosi no mi stai mentendo non usciresti mai con un'altra ragazza voglio dire hai già me una meravigliosa fanciulla immortale che ti sono sempre fedele non hai bisogno di altre scuola va bene va bene non lo dirò solo per rispetto della tua personalità non per quelle meretrici e va bene va bene l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto e quindi c'è qualche problema riguardo andiamo non ti vedo del resto da un sacco di tempo e beh per me è un sacco di tempo voglio dire deve considerare che io sto sempre e solo di notte fuori dal castello e praticamente noi non possiamo stare di mattina a differenza vostra quindi come te lo spiego cioè voi dovete dormire la notte mentre noi la notte siamo vivi e dormiamo la mattina quindi ogni volta ti posso vedere solo se non qualche oretta per me anche anche due giorni sono tanti rispetto a quando non ti vedo volete abbracciarti sì perché non non ti liberi un po di spazio qui ma ho fame ho fame tu non mi lasci mangiare preferiresti allora che che andassi a mietere un'altra vittima potrei ucciderla lo sai perché ho così tanta fame che non mi controllerei vuoi davvero correre questo rischio mio tesoro lo sapevo che l'avresti pensato quanto sei generoso nei confronti della tua specie dovrei ammorbidire la carne mi sembra così teso ti andrebbe un bel massaggio dai lo te lo faccio gratis volentieri ecco qui senti le mie dita i miei polpastrelli che fanno dei piccoli cerchi tra la schiena e la colonna vertebrale però non ti stai rilassando per niente che significa che all'idea del morso ti preoccupi sono sempre stata brava la prima volta che ti ho morso era perché era perché ok lo ammetto non me ne frega un bel niente dei sentimenti che l'essere umano prova quando noi mordiamo cioè voi mica ve ne fregate se l'animale ha sofferto meno quando viene servito a tavola ho sbaglio sì certo norme norme valide quanto quanto i vostri denti finti vampiro in ceramica che vi fate fare dal dentista non prendermi in giro francamente per noi voi siete solo carne da macello anzi sangue da bevanda io però ti adoro e ti amo tanto 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 e quindi provo rispetto per te e cercherò di migliorare sole soltanto per te però ho fame però se ti mordo con questo collo così duro ti farei molto male dimmi pure come l'avevi capito che ti stavo assalendo non perché fossi tu ma perché pensavo fossi un umano a caso scusa aspetta non ti devo chiedere scusa io ho fame tu non chiedi scusa all'agnellino che mangi che mangi praticamente ogni giorno quando ti viene servito a tavola va bene la smetto con questi paragoni però ho tanta fame no no ho promesso che non ti avrei fatto del male e siccome ho parecchia fame sono sicura che non morderei solamente per un minutino potrei metterci anche molto più tempo quindi rilassati rilassati e quanto ci metti a rilassati 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 rilass Ottimo lavoro, amore mio. E adesso potrò godermi il mio pasto. Ottimo lavoro, amore.